bello a tutti ragazzi sono la virgo bentornati su gameplay channel e su 7 day to die come promesso ragazzi ecco qua come vedete la versione 1.0 il gioco è uscito nella sua versione 1.0 in experimental quindi ci potranno essere bug qualche problema speriamo non troppi quindi siamo pronti appunto per fare il new game però prima mi avete detto nei commenti che c'è anche l'italiano ma seriamente vediamo un attimo perché io mi è vero ci avete ragione ragazzi c'è anche l'italiano va bene restarto e torniamo subito ed eccoci tornati ragazzi effettivamente il gioco è in italiano ora io non mi ricordo che se vende tu dai se mai stato in italiano poi ditemi se sbaglio ma credo credo proprio di no allora facciamo nuova partita la chiamiamo come cacchio scritto la chiamiamo youtube 2024 ok mappe facciamo no la farei assolutamente su nevets gain che è quella classica va bene tutto direi che il resto lasciamo offline il server qua lasciamo tutto uguale sinceramente si lascerei tutto uguale multigiocatore va bene non ci interessa tanto noi stiamo in single player quindi facciamo avvia e non ci credo io vedere se vende in italiano ragazzi non sono abituato sinceramente non me l'aspettavo sta cosa me l'avete scritto che probabilmente già da qualche alfa precedente hanno messo la localizzazione in italiano ma sinceramente non lo sapevo davvero non lo sapevo quindi grazie a chi me l'ha scritto nei commenti perché mi è venuto il flash adesso che ho avviato quindi aspettiamo il caricamento e cominciamo subito ok ragazzi eccoci qua che il nostro personaggio ma io che personaggio scusatemi ah io c'ho il personaggio femminile vabbè non so per quale motivo ragazzi per la prima volta giochiamo con con la maria rosa a questo punto ci giochiamo la maria rosa io non ho selezionato in realtà nessun personaggio all'inizio probabilmente dovevo cambiarlo ma fa niente di solito usavo direttamente il mio e me lo dava già di default diciamo ok comunque qua abbiamo questa casetta che ha un singolo teschio quindi quindi francamente io la proverei a guardare allora intanto questo sì questo sì e questo sì sta roba qua me la prendo poi vediamo intanto di farci un attimino le le nostre fibre che tanto queste sappiamo che sono sempre utili perfetto dammi un po di pietra così vediamo se riusciamo a farci almeno una prima ascia una clava qualcosa qualche vestitino giusto per non fare andare la nostra la nostra maria rosa ignuda la prima volta che gioco con un personaggio femminile ragazzi di solito tengo sempre personaggi maschili ma ma mica per altro è proprio per una questione più che altro di abitudine quindi mi piace questa cosa dai mi piace una pistola tubolare già adesso così d'amblè abbiamo una pistola tubolare solo un problema per ricordarti pagare in tempo ogni volta che ne pagherai le conseguenze non ho capito o ne pagherai le conseguenze ok grazie per l'equipaggiamento ma sei ancora in debito appresso il duca ma il duca cos'è riferimento al film mitico jen aplinsky credo vabbè distruggiamo per intanto così raccattiamo della carta poi la torcia la teniamo lì allora le bende me le metto qua questo me lo metto qua questo me lo metto qua la pistola qua questa qua anche se non ce ne faremo sicuramente molto perché immagino che sia scarica però allora la mazza di legno ce la facciamo proprio subito a nastro assolutamente sì poi abbiamo delle challenge qua ok tutorial challenge vabbè adesso non è che mi interesse a ok qua ci fa fare le cose del tutorial basico survival a ok ok qua ci fa vedere tutte le varie le varie cose del del tutorial molto carino perché ci mette anche le icone con le cose che dobbiamo raccogliere sta cosa mi piace perché ci dice prendi legno poi vedo che alcune cose ancora non sono tradotte però vabbè poco male sicuramente verranno tradotte successivamente allora prendiamo anche le pietrozze io non vorrei tanto addentrarmi la in quello stabile perché bite ma insomma non mi ispira non mi ispira molta fiducia sinceramente quella cosa allora parti per fucile assolutamente sia del ferro che utile ok dovrei avere tutto quindi andiamo a creare un ascia così ci da credo un premio qualcosa vabbè vediamo allora adesso la selezioniamo ok e adesso dobbiamo prendere del legno ovviamente da un albero molto carino il tutorial fatto così devo dire mi piace perché comunque ci indica anche dove trovare le risorse per completare il tutorial e questa cosa sinceramente mi piace tipo adesso mi dice di picchiare un sasso fondamentalmente ma sassi qua non ce ne sono e quindi ma piglio in sacoccia allora mi che cacchio è sentito un casino allora mi piace molto questo posto perché ha dell'acqua vicino e questa è una cosa estremamente comoda no sì che c'è il sasso ok non me lo indica il sasso non so perché non me lo indica ma fa niente tanto vabbè li riconosco ormai con 7 day ormai con 7 day non è un grande problema ok completo primitivo ah ma questo è nuovo anche il completo primitivo non l'ho mai visto io quantomeno non l'ho mai visto indossa scusa come siamo diventati che spettacolo sta cosa arco rudimentale crea assolutamente sì però adesso dobbiamo creare delle frecce e ci servono però delle piume piume che io sento sempre casino piume che sarà un casino trovare in giro perché devo andare a becca dei nidi per forza di cose però i nidi non sono semplicissimi da trovare come zona potrebbe anche essere buona per i nidi ma non ne vedo qua ah eccone qua uno ok no me lo indica me lo indica vedi me lo indica me lo indica anche uova perfetto quindi pigliamo tutto ma non ne vedo altri almeno qua in giro io mi prenderei però ancora della pietra perché comunque la pietra ci serve sempre vabbè di frecce in realtà ne dobbiamo fare solo una per il tutorial quindi ok in teoria con la piuma che ho trovato una freccia la posso anche fare mi serve a poco sinceramente però vabbè completiamo giusto il tutorial al tanto per aver fatto il il tutorial e ok quindi con il menu radiale abbiamo mappabilità missioni qua abbiamo le challenge perfetto quindi l'ultima challenge ricompense ok vabbè questo l'ho già fatto in linea di massima questo cosa devo fare devo selezionare questa traccia ok vabbè vediamo di tracciare questa select change sì l'ho fatto ok basic of survival 1 di 9 ok ah ok devo adesso prendere i premi ah ok ricompensa 100 xp sì queste qua completando le challenge otteniamo prevente xp ok no scusatemi ragazzi ma non lo sapevo sinceramente ok quindi queste le abbiamo fatte tutte e adesso mi dice viaggia verso l'insediamento bel lavoro su persite hai dimostrato di essere capace di avere molto potenziale abbiamo evidenziato sulla mappa all'avamposto più vicino lì troverai un negoziante dove potrai vendere acquistare bene a scambiare storie con uno dei nostri amichevoli cittadini va bene ma adesso a me questo francamente non interessa allora la mia priorità sinceramente quella di crearmi frecce innanzitutto e cercare di sopravvivere il più possibile cosa non semplice io poi c'ho una paura fottuta su sto gioco perché ci sono gli zombie che ti spawnano in faccia praticamente quindi non è non è una cosa bella tipo quello sarà morto sarà vivo o sarà ferguson non lo so no è vivo vedi 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 lo schifo che è vivo il maledetto devi morire devi morire che già nel primo video ho fatto una finaccia madonna che schifo c'ha tutte le cose le cose di fuori e muori un po' va vaffan bagno ok allora questo è un banco da lavoro abbiamo vabbè un'ascia di pietra che posso sinceramente distruggere così ottengo materiali che tanto non mi interessa vediamo qua dentro se c'è qualcosa di interessante questa si e questa rotamia armatura ok ma questi cosa poi le ricette ok armor craft king kit ma non c'ho tutto il resto della roba però ce lo teniamo che potrebbe essere utile io c'ho veramente ragazzi il terrore c'ho veramente il terrore viga eccola sapevo ai morici e morici maledetto lurido o è ancora vivo è è ancora vivo sto schifo muori e muori oh porco ma questo corre oh che cacchio è già quelli che corrono adesso mortacci sua ok hanno cambiato tanto anche l'aspetto degli zombie sono decisamente più inquietanti così ma tanto più inquietanti quindi tanta roba mamma mia sto survival qua comunque ci ha impiegato 13 anni uscire dall'alfa però però è tanta roba è veramente tanta tanta roba allora vediamo qua cosa c'è vabbè il ferro prendiamo tutto questo niente e qua niente ok perché io mi vorrei mettere sinceramente il letto in una casa anche perché almeno riesco un attimo a avere un punto di spawn se no è un bel casino anche perché mi devo craftare comunque una cassa per lasciare dentro tutti i vari materiali che non utilizziamo di conseguenza c'ho bisogno assolutamente di un punto tranquillo allora vediamo questo che imboscato la sopra ok prendiamo tutta sta roba e andiamo che per chi cacchio è dove hai qua porca vacca ok via 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 ciao ma fa un bagno porca miseria aspetta fammi scappare un attimo ah quella madonna quanti ce ne sono e la miseria quanti cacchio ce ne sono via 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 fammi andare in zona aperta no perché io al chiuso mica mi fido ragazzi io al chiuso non mi fido questo è scarica vero e si mannaggia la miseria quella maronna che piovono zombie oh che cacchio è piovono zombie scusa amico ma va bene tutto però abbi pazienza un attimo poi con sta cacchio di clava non è che gli faccio molti danni ma perché mi piovono perché mi piovono in testa zombie scusami fammi capire un attimo e muorici madonna inquietante sto gioco comunque è ancora vivo ma devi morire però vedete ho fatto bene a chiudere la porta almeno ho tempo di affrontare quegli altri ok quello forse è morto vediamo di uccidere questo non è morto manco per il cacchio quindi altra bottarella in capoccia e muorici maledetto muorici e tosta questa e c'era un teschio ma questi sono cazzuti ok morto mamma mia or caccia boia mi fa venire l'ansia bello però è bello l'effetto così è molto bello devo dire ha fatto ha fatto un gran bel lavoro anche sul discorso splatter house discorso splatterone fatto molto bene ok tecnicamente non dovrebbe esserci più nessuno perché gli zombie comunque col rumore si attivano questo era imboscato qua dentro l'armadio diciamo con gli con i rumori gli zombie si incazzano cioè nel senso vengono fuori quindi in teoria non dovrebbe esserci più niente allora di solito ci sono anche casseforti nascoste dentro le cose dai un'occhiata a queste folli trappole vabbè questo lo usiamo che dovremmo imparare varie cose ok no qua casseforti non ce ne sono qua abbiamo un coso vabbè qua è chiuso ma è una porta che da sull'esterno io continuo a sentire rumori scusate ragazzi ma continuo a sentire rumori allora qua abbiamo un barbecue che però non è funzionante qua abbiamo anche un bel balcone quindi mi piace come mi piace molto come come casetta questa magari riparandola un po fortificandola un po potrebbe essere una gran bella baita anche perché comunque abbiamo l'acqua vicinissimo ed è un'ottima cosa avere dell'acqua in ogni caso è quindi è veramente utilissimo avere dell'acqua allora impariamo la cucina ok quindi abbiamo sbloccato il grano turco alla griglia le patate arrosto prendiamo tutta sta roba qua questa porta è bloccata ma credo che dia sull'esterno però mi sa che non da sull'esterno proviamo a spaccare un attimo qua ok no niente proprio devo spaccare ah sì no da sull'esterno niente allora la ripariamo ok la ripariamo perché preferisco avere la porta chiusa sinceramente quindi va bene allora patate e farina di mais ok anche se preferivo magari qualcosa da seminare e qualcosa di cibo sinceramente pianta in vaso ah ma ho raccolto proprio la pianta così no scusami questa non mi interessa allora equipaggia e mettila qua sì che questa la pianta in vaso sinceramente mi interessa fiore di verga d'oro ah ok vabbè lo prendiamo ci potrebbe essere utile allora la casa è tutta qua quindi non è grande va bene però la cosa interessante che mi permette di fare un po di cose intanto mi faccio la la cassa poi ci facciamo un bel sacco a pelo e ci facciamo back and fire ci facciamo tutto ok così almeno riesco a mettere dentro tutta la roba bene ridammi lascia che la mettiamo qua perfetto quindi andiamo a mettere la mia cassa di legno qua l'hanno migliorata tantissimo la cassa mi piace un sacco così devo dire no aspetta dammi questo mettimelo magari così mettiamo il sacco a pelo qua perfetto e andiamo anche a mettere dentro già tutta la roba che non mi serve sasso sì la carta no farina di mais vediamo se riusciamo a seminarlo un uovo ce lo teniamo che magari mangiamo il ferro per adesso lo lascio lì il carbone beh i soldi me li porto che possono essere utili chicchi di caffè non mi interessa la patata vediamo se riusciamo magari a seminarla le pietre le posso tenere lì questa sì questa sì il pezzo di stoffa tutta sta roba perché se no mi appesantisce per nulla ok allora fai così dammi questa dammi questa e il che fai era a sto punto ce lo mettiamo qua ok buona perfetto allora direi quindi direi quindi però io farei una cosa questa la devo spaccare per forza perché ho bisogno di un'uscita verso l'esterno perché se no come cacchio ci esco e l'unico modo siccome questa porta è bloccata purtroppo l'unico modo è fare io una porta e andarla a posizionare in quel modo tecnicamente te ha già però io devo fare aspetta devo fare devo fare devo fare dove cacchio sta com'è che si chiama la zappa devo fare per seminare e dove cacchio sarà la zappa nei tool allora zappa zappa chiave inglese martello soffietto avanzato e no allora mi sa che ho bisogno della skill mi sa che ho bisogno di una skill ragazzi attrezzi per la raccolta sblocca attrezzi di pieta attrezzi riparazione lame martelli madonna quanta roba marò quanta roba trappole postazioni di lavoro semi o perfetto i semi va bene sbloccherà sbloccherà vari gradi semi no ma io volevo capire come fare la la zappa che sinceramente non vedo proviamo a selezionare qua zappa vediamo cosa ci chieda no però come zappa non c'è niente c'è la mazza di legno non ho nient'altro mazza da baseball mazza d'acciaio ma tutte ste robe qua no tutte ste robe qua no secondo me devo sbloccare qualcosa questo sblocca il martello e la spara chiodi a meno che non devo sbloccare a eccola qua la zappa ok allora pala di pietra alla pala di pietro ok la pala di pietra no in realtà si mi servono solo le fibre vegetali ok scusami pala non zappa pardon ma che figa che sono con con l'armatura indosso è bellissima ragazzi è bellissima ok facciamo un attimo una pala perché con la pala dove cacchio me l'ha messa pala ok con la pala dovrei teoricamente riuscire a seminare il mais credo che cacchio è hanno madonna sono io che urlo non sono abituato a essere essere donna scusatemi e no nel senso che non sono proprio abituato e come si faceva a zappare io non mi ricordo no però non è la pala perché con la palla proprio andiamo a scavare ma a me serve proprio la zappa era la zappa effettivamente ma non è qua tra questi e questo mi sblocca la pala qua pure mi sblocca la pala il piccone no sta roba qua no dov'è che me la sblocca scusami la trivella la motosega questa è per la raccolta per la riparazione ci sblocca questo per il recupero chiave inglese cricchetto e cacciavite qua il tirapugni molto bello il tirapugni devo dire qua abbiamo tutta la parte delle lame delle mazze e devo guardarci un attimo ragazzi perché sinceramente sinceramente non mi ricordo vabbè allora adesso diciamo che noi comunque abbiamo la nostra base per quanto sia piccola farei un attimo una cosa distruggiamo questa che recuperiamo legna e me ne faccio un'altra di mazza perché in teoria continuando a craftare dovrei comunque riuscire a aumentare un pochettino il livello craftando cose spero quindi si vedete che ho aumentato i 7 xp non è tantissimo però però sempre meglio che niente sempre meglio che niente a me piacerebbe andare qua su sto bait ma ho paura che sia un bel casino sto posto io ho paura che sto bene adesso vediamo quanti teschi mi da ma o per fortuna abbiamo un nido di uccelli ok prendiamo tutto però a me servono un sacco di nido per le frecce mi servono tantissime più ma ragazzi mi servono veramente una quantità di piume esagerate soprattutto calcolando la mia mira di cacca quindi sarà un bel casino devo andare veramente alla ricerca di piume se no se no la vedo dura qua però non mi da nessuna hanno due teschi e due teschi inizia a essere inizia a essere pericolosina la faccenda inizia a essere decisamente pericolosina la faccenda allora iniziamo a fare tutte le frecce che posso ma quattro frecce capite bene che ci faccio veramente veramente ben poco vediamo se qua dentro c'è qualcosa di gimbo se non riesco a capire neanche che che negozio sia francamente non lo so sinceramente non lo so è vero anche siamo vicini a casa e quindi nel caso se anche dovessimo morire respogno abbastanza vicini a casa allora focus sforacchiare le cose si usalo intanto o lancia di pietra di qualità perfetto ma quindi ho anche delle lance scusami aspetta fermati lancia lancia di pietra si in realtà ce l'ho la lancia di pietra non sarebbe male non sarebbe neanche male mi servono solo dei sassi scusa un attimo di appigliare dei sassi in attimo perché se c'ho la lancia se ho la lancia tanto di guadagnato insomma no allora prendiamo questo mi dovrebbe dare anche sassi oltre a ferro esatto così li prendiamo me ne da meno di sassi però vedete adesso siamo a tre raccattiamo anche anche del ferro che tanto in ogni caso ci servirà prima o poi quindi anzi più prima che poi in realtà per cui va bene allora arriviamo a 5 ok siamo arrivati a 5 quindi la lancia di pietra io me la posso fare la facciamo e vediamo com'è sta lancia perché ok andamola un attimo qua a quindi la posso usare così o la posso lanciare immagino no no la posso usare solo così però penso che sia decisamente meglio rispetto alla alla pala in sé sia la pala buonanotte alla clava che abbiamo ma vediamo la cassetta delle lettere che è sempre interessante qua sblocchiamo cose di semi va benissimo perché l'agricoltura tanto ci servirà tantissimo quindi va bene sta roba quasi si impariamo 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 tutto che diventiamo intelligenti ok è qua ci siamo acqua la porta è tutto bloccato questo anche un bel posto già fortificato in realtà è già bello fortificato sto posto è quindi non è male capire se posso entrare da qualche parte e in realtà potrei forse entrare qua non ce l'ho fatta ce l'ho fatta mai nella vita ok là c'è uno zono no cacchio là c'è quello brutto quello brutto grosso maledetto lurido è solo che qua spaccare sta porta è un casino spaccare quella porta è un casino perché quella in metallo rinforzata quindi vorrei evitare e qua ok questo questo è bloccato qua c'è qualcuno no non mi pare di vedere nessuno però noi possiamo anche ok lì c'è uno zombie quello lì è vivo nel senso che mi verrà contro sicuro quindi facciamo così e vediamo un attimo di caricare una freccina e sbume te ok infatti sapevo che era vivo sapevo che era vivo ok preso si però devi morire eh scusami prima di dopodomani magari e muorici un po' oh la grazie eh grazie molto gentile ridammi le mie frecce ok questi qua fan veramente fan veramente ribrezzo che sono troppo al chiuso vediamo come sta lancia buona buona sta lancia mazza che danno fa un bel danno sta lancia devo dire ottima mi piace ok molto bello occhio dietro che non voglio che mi prendano da dietro e la sta arrivando il panzone la mi sta arrivando il panzone questa è una specie di di barchetta piattaforma cacchio questo posto qua è fighissimo però sta arrivando lì lo zombie solo che quello è grosso ragazzi quello lì è un po' troppo grosso quello lì è un po' troppo grosso quindi non mi fido quindi no cioè avessi le frecce si guarda che poi è arrivata un'altra zombie intanto maledetta lurida che cacchio vuoi ok muorici 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 e c'è morto ok perfetto allora probleme che finché sono questi zombie qua sono gestibili soprattutto se vi arrivano uno alla volta ma se sono di più io ho bisogno di qualcosa per tenerli a distanza quindi stavo cercando di vedere se oh eccoli qua si trova un po' di nidi con un bel po' di piume dentro perché come detto devo fare veramente un sacco di frecci in quanto io questo posto qua sinceramente me lo spippolerei perché secondo me qua dentro c'è tanta roba secondo me lì dentro c'è veramente veramente tanta roba interessante là c'è uno zombie che sta arrivando tranquilli che l'ho visto però per adesso è abbastanza lontano quindi ce ne sbattiamo le giberne mi interessa capire se trovo se trovo dei nidi qua da qualche parte tanto noi andiamo giù di qua poi magari me ne starò perdendo 50.000 eh però però per adesso qua non ne vedo che è l'altro i zombie è un bel casino eh se vende è un gran casino però l'han fatto veramente bene eccolo qua un altro nido perfetto bene così abbiamo altre 5 frecce ottimo questo credo che sia del nitrato se non mi ricordo male quindi va bene si ci servirà poi per fare polvere da sparo eccone qua un altro buono così abbiamo anche uova che anche quelle comunque servono eh soprattutto all'inizio come come cibo quando possiamo fare ben poco ci possono dare veramente un grande aiuto ecco qua un altro nido si in questo bioma qua ce ne sono parecchi di nidi solo che alcuni purtroppo contengono poche piume quindi non è che aiutino più di tanto ecco ne qua un altro però dai già così già così iniziamo ad andare un attimino meglio allora qua c'è anche una casa e anche questa è una casa è una stazione di servizio non capisco ui il zaino aspetta fammi vedere cosa c'è qua una pannocchia vabbè una pannocchia cotta non si rifiuta mai non si rifiuta mai 8 piume ottimo ottimo così allora lì ho un caffè molto interessante questo perché potrebbe avere molto cibo e ce ne serve tanto adesso perché comunque adesso siamo molto limitati come cucina come tutto fondamentalmente quindi più cibo ovviamente riusciamo a trovare in giro e meglio è per cui sinceramente io punterei eh a sto punto qua al caffè però facciamo una cosa allora eh io direi per intanto che dove cacchio stanno munizioni eh freccia di pietra ne possiamo fare nove che non sono assolutamente tante però però sempre meglio che un calcio in faccia direi e intanto che cerchiamo eh altre piume ovviamente io mi darei una bella esplorata a questo posto qua perché secondo me come detto ne può valer la pena perché comunque penso che abbia un bel po' di cibo un bel po' di risorse che soprattutto adesso che siamo all'inizio ci vengono utili diamo solo un occhio avviciniamoci giusto per capire quanti teschi è uno bobs caffè quindi secondo me è fattibile eh è sicuramente la nostra portata per cui io ci proverei eh qua abbiamo già il primo zombie ma interessa che non mi arrivino da dietro questo lo faccio così con la lancia poi ragazzi salvo bello questo col cappuccio se gli tiro magari anche in faccia sarebbe meglio eh questo come detto lo faccio così con la lancia almeno non sprechiamo munizze che c'è vabbè che magari le recuperiamo però alcune frecce si rompono di conseguenza preferisco dove riesco farli farli così con la lancia ok io intanto sto raccogliendo ovviamente tutto perché adesso siamo a quel livello in cui qualsiasi cosa ci serve veramente veramente qualsiasi che cacchio è sto casino che mi fate eh ci siamo capiti eh dicevo siamo in quel livello dove qualsiasi cosa ci è assolutamente fondamentale cucù che c'è nessuno sì qua sicuramente sarà pieno di zombie eh quindi l'idea ragazzi è quella di spaccare la porta che tanto ce la facciamo anche se abbiamo l'ascia quindi non è proprio il massimo della vita contro il metallo però comunque ce la facciamo tranquilli a eh spaccare quella porta d'ingresso entrare far svegliare un po' di zombie tirarli fuori così che almeno riusciamo a combattere all'aperto però ragazzi io per il momento per il momento mi fermerei qui eh con quello che spero possa essere effettivamente il primo episodio di una lunghissima serie come ne ho fatta in passato su Seven Day perché insomma per chi mi segue da anni sa quanto io abbia portato eh questo gioco con serie veramente lunghissime eh perché essendo un survival secondo me è anche bello vedere per l'appunto la storia eh come riusciamo a proseguire come riusciamo a sopravvivere soprattutto anche perché ricordo che ogni sette giorni arriva eh la luna rossa quindi spona quest'orda di zombie che ovviamente man mano che passa il tempo diventa sempre più forte eh quindi man mano che i sette giorni si susseguono eh l'orda diventa sempre più forte quindi eh abbiamo anche una certa eh fregola nel eh trovare cose nel craftare armi autodifese eh torrette e quant'altro perché come detto più tempo passa eh in game e più ovviamente l'orda si fortifica i sette giorni successivi quindi eh insomma è veramente avvincente secondo me come come gioco è veramente veramente avvincente eh per cui io spero che questa possa essere appunto una serie per cui questo come sempre dipende da voi quindi mi raccomando se volete che lo sia ovviamente spolliciate lasciate un sacco un sacco di like condividete commentati iscrivete al canale se non siete iscritti e attivate la campanella delle notifiche per chi vuole dare una mano concreta al canale come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti youtube o il tastino gazzi di sotto di ogni mio video a questo punto ragazzi io per il momento vi saluto e vi do appuntamento come sempre nei prossimi gameplay ciao belli